Benvenuto a questa meditazione. Parti su casa, la gamba è incrociata e ti siedi su una sedia. Prendiamo un paio di respiri profondi, ispira, allunga le braccia verso l'alto e ispira fuori tutta l'aria, schiena dritta e ancora ispira, allungati, apri il petto e ispira, torna. E schiena dritta e petto aperto, chiudi gli occhi, rilassa le spalle, lasciali cadere naturalmente, rilassa il viso, la fronte, le labbra, sono semi aperte. E anche le braccia sono leggere, non sono rigide. Inizia a trovare il respiro, a focalizzarti sul tuo respiro, sull'aria che entra e desce dal naso, dalle narici. Respiro leggero, lo lasci fluire e viaggiare naturalmente nel corpo. E mentre osservi il respiro, inizi a guardarti dentro. E inizi a concentrarti nello spazio al centro della tua testa. Porta lì attenzione, consapevolezza, presenza e respiro al centro della testa. E poi scendi e porti l'attenzione alla gola. E dalla gola ti muovi e scendi fino al cuore, al petto. E porta consapevolezza fino all'ombelico e alla zona pelvica. Alla parte del corpo in contatto con la terra o con la sedia. E risali, torna all'ombelico, al cuore, al vero centro. Un posto speciale dove esprimi te stesso, un posto che ti rende unico. E dal cuore torni alla gola e alla testa. E lentamente porti consapevolezza a tutto il corpo, sentendolo espandersi nello spazio che lo circonda. Il respiro è lento, calmo, rilassato. E senti il corpo espandersi nello spazio che lo circonda. E avverti la tua grandezza infinita. La tua energia radiante. E il corpo è rilassato, libero, connesso alle vibrazioni interne. In questo stato di grandezza, connessione e consapevolezza. Inizi lentamente a tornare. Cercando di portare con te queste sensazioni nel resto della giornata. Apri gli occhi, torna alla stanza, allo spazio che ti circonda. E grazie per questa pratica. Namaste. Grazie. Grazie.